La protesta è finita. Il 2013 si è chiuso con una svolta nell'avvertenza OM Carrelli di Modugno, proprio quando la rottura tra le parti sembrava oramai inevitabile. A spuntarla alla fine è stata la CHION, la multinazionale tedesca proprietaria dello stabilimento, ma i lavoratori, 224, in cassa integrazione da circa due anni, possono almeno tornare a sperare. L'accordo tra sindacati, CISL, UIL e UGL, e i legali della società, è stato raggiunto a seguito di un incontro non troppo pubblicizzato, tenutosi poco prima di Natale, nella sede dell'assessorato regionale al lavoro. La multinazionale potrà riprendersi i 250 carrelli e parte dei macchinari ancora presenti nello stabilimento, che gli operai non permettevano di toccare, in segno di protesta contro la proprietà. I lavoratori hanno smobilitato il presidio, che da oltre a sette mesi era stato organizzato davanti ai cancelli della fabbrica. Di contro, la CHION ha promesso di ritirare le denunce penali e civili a carico di 29 operai, accusati di violenza privata, e di non intraprendere vie legali per gli eventuali danni provocati alla società. Ma non è tutto. La parte più significativa dell'accordo riguarda il futuro dell'azienda. La multinazionale ha accettato di cedere a titolo gratuito lo stabilimento e alcuni macchinari ed imprenditori interessati a rilevare l'attività, fermo ormai da due anni. Qualcuno sembrerebbe già esserci, anche se al momento non si fanno nomi. Un non meglio definito Mister X che il 19 gennaio prossimo visiterà lo stabilimento e deciderà se acquisire o meno l'OM di Modugno. Lavoratori, sindacati e istituzioni terranno le dite incrociate.